Musica Musica L'Accademia musicale Chopin e Movimentiamoci insieme per Teleton al Diana di Nociara Inferiore, perché insieme si può. Ciascuno può dare un contributo concreto a Teleton, alla ricerca per sconfiggere, esorcizzare, debellare le malattie genetiche, soprattutto le più rare. Una serata di musica e solidarietà che traduce il buonismo del Natale in bontà concreta. La ricerca è importante, ma la ricerca si fa tutti insieme, coinvolgendo le persone, coinvolgendo i ricercatori, coinvolgendo le famiglie. Non è soltanto utile dare i soldi, è utile partecipare, controllare, stimolare, perché solo così si possono ottenere dei grandi risultati. E' questo il suo impegno insieme a Teleton? Sì, questo è il mio impegno da tanti anni. Io sono del TGEM, che è una struttura meravigliosa, che è stata costruita proprio con il cuore e con la passione di Teleton, delle famiglie e dei ricercatori che ci lavorano. La missione di combattere le malattie genetiche. Le malattie genetiche più indagate oggi quali sono? Teleton si occupa di oltre 450 diverse malattie genetiche. Ce ne sono 6.000 in totale. La distrofia muscolare di dioscene è sicuramente la malattia principe, la più importante. E poi ce ne sono tante altre, su cui magari si può fare qualcosa di più già nell'immediato. Abbiamo visto alcune malattie metaboliche, su cui già ci sono dei bambini che sono stati curati. Quindi ci sono malattie più comuni, più gravi e ci sono malattie più curabili. Movimentiamoci attenta a ciò che è innanzitutto formazione anche del senso civico. Teleton è di per sé un modello per dire insieme si può. Tutti e ciascuno con la sua parte può contribuire a dare un miglioramento non solo alla vita di queste persone che possono avere dei problemi, ma anche alla conoscenza di chi non ha mai avuto a che fare con queste tipologie di difficoltà. Ricordiamoci, ognuno di noi si potrebbe trovare nella stessa difficoltà e anche chi non ci si trova. È importante capire e avere la sensazione di chi ha questo tipo di difficoltà. Il modello che abbiamo qui, hanno provato a fare tre anni fa, era quello di coinvolgere quante più persone possibili in maniera tale da dare il proprio contributo con la propria arte, ma il proprio contributo anche con i propri soldi. Tutti i partecipanti hanno a loro volta comprato il biglietto. È uno spazio di condivisione, di esperienza, ma anche di informazione. Tra l'altro fatto con un'accademia che quest'anno spegne le dieci candeline. Esatto, l'Accademia Chopin quest'anno compie i suoi dieci anni. È un'accademia speciale perché in realtà è una piccola famiglia. Il tutto è stato in fondo anche organizzato dall'Azione Cattolica di San Bartolomeo Apostolo. La direttrice della scuola, il maestro Paolo Patre Petrosino, è un membro dell'Azione Cattolica. Diversi maestri sono membri dell'Azione Cattolica. Diciamo che all'interno di Movimentiamoci, all'interno dell'Accademia Chopin, c'è una buona fetta di azione cattolica. Grazie.